Dopodomani ricorre la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato e segna l'inizio del tempo del creato che si conclude il 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco nel suo messaggio che ha per tema che scorrono la giustizia e la pace invita al rinnovamento del nostro rapporto con il creato affinché non lo consideriamo più come oggetto da sfruttare ma al contrario lo custodiamo come dono. La comunità parrocchiale Gesù Lavoratore di Giarre guidata dal parroco don Antonino Pennisi ha organizzato quindi alcune iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare i fedeli sull'importanza della tutela della terra soprattutto dopo l'emergenza incendi che la Sicilia ha dovuto affrontare. Dopodomani alle ore 18 si terrà l'adorazione eucaristica con meditazione sul messaggio del Santo Padre. Sabato a partire dalle ore 9 e 30 i giovani della parrocchia puliranno la aiuole che circondano la chiesa. Metafora della cura del creato. Domenica 17 settembre durante la celebrazione eucaristica del pomeriggio nel campetto parrocchiale intitolato a Don Grillo si terrà la benedizione degli animali. Infine domenica 24 settembre a conclusione della Santa Messa delle ore 20 si terrà un aperitivo ricreativo con ospite Salvo Quattrocchi del WWF Sicilia Nord Orientale. Il giorno 1 di settembre inizierà il tempo del creato proprio l'1 di settembre con la celebrazione della giornata mondiale per la preghiera sul creato per il creato inizierà questo tempo del creato tempo in cui noi chiesa cattolica siamo chiamati a pregare e a riflettere sul valore della natura e sulla cura dell'ambiente e noi come parrocchia di Gesù Lavoratore vogliamo pregare e fare qualche cosa per l'ambiente diventando così un piccolo segno profetico per la città di Giare e anche per la diocese di Aciriale. Ecco si inizia sempre dal piccolo per poi fare cose in grande.